Lavoro, cantieri, sblocco delle grandi opere. Queste le principali rivindicazioni al centro dello sciopero generale del comparto costruzioni indetto per venerdì 15 marzo dai sindacati Fillea CGL, Feneal Will e Filca Cisl nel corso della conferenza stampa di sabato mattina svoltersi in zona d'Arsena a Ravenna. L'obiettivo delle sigle sindacali è quello di sollecitare la politica a rilanciare un settore edile che, come precisato da Maurizio Bisignani della Cisla, è in crisi da tempo. Il settore delle costruzioni negli ultimi dieci anni, dal 2008 al 2018, ha perso più di 4.000 addetti su circa 6.000 presenti in cassa edile. Al centro dello sciopero del 15 marzo ci sarà anche il caso della CMC. Su questo fronte i sindacati hanno tracciato un bilancio della situazione e delineato gli obiettivi futuri. È una situazione che stiamo costantemente tenendo sotto controllo. È stato raggiunto l'accordo al Ministero del Lavoro per un anno di cassa integrazione, per cui questo ci dà una boccata d'ossigeno dal punto di vista occupazionale. Però è chiaro che adesso il punto è capire con la CMC quello che è il piano concordatario, per cui che futuro si dà alla CMC e che piano industriale ne consegue. Un altro problema scottante che sarà sollevato il prossimo 15 marzo è quello dei contratti di lavoro. Sicuramente i contratti sono un altro punto, uno scoglio per quanto ci riguarda. In effetti ci sono molte aziende che ad oggi applicano contratti diversi da quelli dell'edilizia, pur facendo lavori edili. Questo per noi è un grosso problema, ma è un grosso problema per i lavoratori stessi, perché comunque hanno meno tutela e sicuramente meno salario.